A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani gelate estese all'alba, via via molto nuvoloso coperto, asciutta al mattino e nuovamente in serata. Piogge e deboli nevicate fino a basse quote a metà giornata, più probabili sulla Lombardia sud e sugli Appennini. Temperature massime tra 1 e 5 gradi, minime tra meno 4 e meno 1 grado.